Rinfrancata dalla vittoria di Torretta di Crucoli, l'Albaverde ritorna tra le mure amiche del pala Canizzaro per ospitare sabato 11 marzo con inizio alle ore 18 la Stefanese di Sando Stefano di Camastra. La formazione nissena scenderà in campo con la voglia di allungare la striscia positiva di quattro vittorie consecutive nel girone di ritorno e di confermare l'imbattibilità casalinga. La Stefanese sta disputando un campionato al di sotto delle aspettative ed è piazzata al terz'ultimo posto in classifica con soli 9 punti, anche se qualche aggiustamento nell'organico l'ha resa in queste ultime settimane più competitiva. La gara di sabato sarà importante per confermare il percorso di crescita e dovrà essere sostenuta con il massimo della concentrazione, per migliorare gli automatismi utili per affrontare un finale di stagione che si presenta pieno di insidie. Volei, serie B2, girone M, diciannovesima giornata Albaverde Stefanese Cus Catania Fidelis Torretta Funivia Etna Planet Pallavolo Crotone Saragena Volei Region Gioiosa Zafferana Bricositi Procori Ericina Ardens Comiso